Stanno continuando gli accertamenti congiuntamente ai colleghi dei RIS e speriamo di avere qualche risultato a breve. Banda dell'Audi gialla, i carabinieri non mollano. Ci vorrà ancora qualche giorno per avere la relazione completa sui ridievi dei RIS, sia sull'auto che su quanto recuperato lungo il Musom, tra Fonte e Asolo, dove i tre nella notte di martedì hanno incendiato l'auto più ricercata del nord-est. Forse avranno pensato di sparire tra le fiamme del bolide con motore Maserati, cancellando ogni traccia, invece le indagini si starebbero facendo più pressanti, soprattutto nell'Asolano, dove i tre sicuramente hanno vissuto. Tracce biologiche e altri indizi sugli attrezzi recuperati nella carcassa dell'auto avrebbero già dato risultati interessanti, in una triangolazione con le immagini delle stazioni di servizio, che presto potrebbe portare a risultati clamorosi. Sono dei momenti importanti perché ci fissano nel tempo e nello spazio determinate persone.